Gli aggiornamenti, Olly? Il tracciante va verso sud sulla I-95. Ho delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Passale a Charlie. Se cambia qualcosa, dimmelo. Non dovevamo lasciarti a New York. Le cose cambiano. Abbiamo una parte di targa. Inizia a cercare. Ok. Il tracciante sull'arma chimica è appena fuori da Philadelphia. Non dovevano arrivare negli Stati Uniti, se non li fermiamo in tempo. Non fermeremo soltanto questo. Fermeremo tutti gli attacchi. Ho monitorato gli interrogatori del DCS in uscita da Chicago. Sadika ha una cerchia fidata di comandanti. Il DCS è convinto che stia anorchestrando gli attacchi della Blacklist. Se prendessimo un comandante vivo... Scopriremo che cosa sta progettando la Blacklist. Momento giusto per alzare la posta. Il loro furgone è affittato insieme ad altri cinque con la stessa carta di credito falsa. Il tracciante sta rallentando. È sull'East Oregon. Lascia South Columbus per... Il deposito dei treni. Prendi i feed della security. Gli altri veicoli degli ingegneri sono già lì. E se le bombe fossero armate? Atterriamo. Phil International ci ha già dato il permesso. Atterriamo. Cabina di pilotaggio. Completare avvicinamento a... Le specifiche del dispositivo di Londra? Un attimo. Abbiamo una semplice procedura di disarmo. Bene. Charlie, mi servirà qualcosa per bloccare le frequenze radio. Non voglio un innesco a distanza. Certo. Briggs. Tu verrai con me in azione. Andiamo. Evviva! Isolate il nemico nel retro del furgone in testa. Eliminali prima che inneschino la bomba. Pronto. In posizione. Lo vedo. Autista sottotiro. Ricevuto. Tre. Due. Un. Sam, arriva alla bomba prima che esploda. Attacco i bersagli. Abattuto. Eccone un altro. Lo vedo. È lì. Il nemico abbattuto. Via libera, Sam. Ci troviamo giù al furgone. Grimm. Sto disarmando la prima bomba. Ricevuto. Attivo il disturbatore. Bene. Il segnale è buono. Ecco le posizioni delle altre tre, Sam. Nella galleria dietro di te, nell'officina e nel deposito locomotive. Abbiamo poco tempo e troppa strada da fare. Dobbiamo dividerci. Invio le posizioni sul tuo Opsat. Inizia a parlare come Grimm. Via libera. Grimm, la posizione del leader? Ho inviato la nostra ipotesi sull'Opsat. In base all'analisi del servint e l'ingegnere chiave in questo attacco. Chiediamo a lui. Buona fortuna, Briggs. Chiudo. In che cazzo di situazione mi sono cacciato? Briggs, presto. Ferma la bomba prima che la spostino. Ricevuto. E andiamo. I furgoni sembrano quelli che Charlie ha trovato con le tecniche di strada. Holy shit! Scatricon. Non c'è nessuniyor. Non c'è nessunc30. No, non c'è nessunc30. C'è nessunshort. Non c'è nessunc30. Così ci chiudi. L'ingegnere c'è nessun che scuola? No, non c'è nessunc30. No, non c'è nessunc30. Puoi venire qui a darmi una mano? Mi capro io! Sì, non è l'ultimo. Bisogna rinzare alla bomba. Ho trovato la bomba. Grim. Briggs, hey, ho ricavato i piani della bomba della foto scattata da Sam a Londra. Si basa sulla dispersione di un aerosol. Credo si sia avvelenato così. Vai tranquillo. Devi semplicemente aprire l'involucro e... No, no, mi serve Grim. Passamela subito. È occupata con Sam a cercare il leader. Senti, pensi che lavorare con te sia una specie di onore per me? Mandami solo i dettagli sull'Obsat. Bomba disarmata. Ho raggiunto la posizione. Sam, gli ingegneri stanno innescando la bomba dall'altro lato del viadotto. Devi muoverti. Subito. Tutte le pattuglie sono a livello del terreno, Sam. Non vedo nessuno sopra i treni. Non vedo nessuno sopra i treni, Sam. Non vedo nessuno sopra i treni. C'è un senso, siamo arrivati. C'è uno degli spi. Ecco-lo. C'è il posizuto pari. Non prendiamo il triggor. Non c'è un tiglio. Scusate è lupatura. Non immerguiamo caratteristznato. Dunque sia l'onda delle attruttate 15 giorni sono in corso di Carri. Si ée, smarterelleri e mi sono ancora qui,restè. Ci spetics tra la 57 sfone di traeresa hanno indietro. Non spettete finché non lo trovate! E' vuoto. La bomba è già stata caricata sul treno. Non lo trovate. All the team is in front of the camera. All the rest of the face to face checkers. I'm going to race him. I wanna know as soon as you like all clear. No do. Then as you work. Number one check in the end all clear. Sillenzo. Yes, he's not there. Yes, he's not there. Ok, ok. Grazie a tutti. 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 Ok, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. State giù se non volete farmi male. Grazie a tutti. Non hai molto tempo, Sam. Presto arriverai alla galleria. Grazie a tutti. Fermi! Fermi! Grazie a tutti. La squadra... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.